Nel giorno in cui si celebra la giornata mondiale delle malattie rare, arriva un'altra importante conferma dell'impegno e degli sforzi messi in campo dall'Istituto di ricerca di Pozzilli per studiare più a fondo e combattere queste patologie. Il Centro di Neurogenetica e Malattie Rare è stato infatti selezionato per partecipare al progetto Enroll HD, lo studio osservazionale più grande al mondo mai avviato prima sulla malattia di Huntington, una grave e rara condizione genetica neurogenerativa che colpisce la coordinazione dei movimenti portando a un inarrestabile declino neurologico. Questo studio coinvolgerà non solo i pazienti ma anche tutto il suo nucleo familiare. Il nostro istituto è stato selezionato a partecipare ad uno studio osservazionale che è il più grosso al mondo per la malattia di Huntington. Si tratta di uno studio che viene finanziato da un'associazione che ha sede negli Stati Uniti e che permette a tutti i pazienti affetti dalla malattia e ai familiari di essere seguiti nel tempo per aiutare i ricercatori ad avere idea più precisa sulla evoluzione naturale della malattia. Sicuramente per noi è motivo di orgoglio essere stati selezionati a partecipare in uno studio di tale portata è sicuramente la testimonianza del fatto che l'istituto Neuromed è un centro di eccellenza per questa malattia e per altre malattie rare. Per il Neuromed questa sarà anche l'occasione per acquisire maggiori conoscenze sull'evoluzione della malattia di Huntington e preziose informazioni per lo sviluppo di nuove opzioni terapeutiche da mettere al servizio di quei pazienti che negli anni hanno fatto dell'istituto di ricerca e cura di Pozzilli il loro punto di riferimento. Il Neuromed ha un laboratorio di neurogenetica che è dedicato allo studio dei meccanismi molecolari che sono alla base della malattia di Huntington e segue anche pazienti presso il centro malattie rare in clinica offrendo loro una presa in carico multidisciplinare e continua.